E' stata inaugurata il 25 ottobre la sedicesima edizione del Festival della Scienza di Genova, tra i maggiori eventi di divulgazione scientifica a livello internazionale, che fino al 4 novembre avrà lo scopo di rendere la scienza accessibile a tutti, con particolare riguardo ai giovani. Cambiamenti è il tema portante dell'edizione 2018, che si svilupperà in 11 giorni di spettacoli, conferenze, aree espositive e laboratori didattici, per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente. La presenza di grandi ospiti internazionali arricchisce un programma che ogni anno è centrato sui temi più attuali del dibattito scientifico. L'Agenzia Spaziale Italiana è presente alla manifestazione con diversi contributi, tra cui la mostra fotografica dedicata al trentennale dell'ASI, 50 più 30, lo spazio d'Italia, che rimarrà vestita per tutta la durata del Festival, e la Lettrio Magistralis tenuta dal presidente dell'ASI, Roberto Battistoni, dedicata alle future esplorazioni lunari e marziane. Gli appuntamenti targati ASI continuano la prossima settimana, con lo spettacolo Likes and Waves Rhapsody, racconto in musica a tre voci, che si terrà il primo novembre, ore 21, al Teatro Tosse. Maggiori informazioni sul sito del Festival di Genova e su quello dell'Agenzia Spaziale Italiana, www.asi.it. Maggiori informazioni sul sito del Festival di Genova